Perchè non comincia? In posizione! Figlia! Basta! Sono qua! Giuglia! Giuglia! Rendite questo! Cosa va? È sufficiente mover un di per partito! No! 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 Non rimarrò in mano, non è ora che tu sparisca da questo mondo, ma dov'hai finito? Ti ho visto! E sguinta la tua uova! Non è ora che tu sparisca da questo mondo, ma dov'hai finito? Non è che l'impegno non sei niente male, prendi questo! Prepara, adesso sta un po' di me! E ora il corpo di grazia! Un'assorbera energetica! E' sufficiente muovere un dito per farti fuori! E' sufficiente muovere un dito per farti fuori! Prendi questo! Non è ora che tu sparisca da questo mondo! K.O! Visto? Non puoi competere con me, rassegnati! Visto!